26 giugno 2013, siamo baciati dal sole, così si presenta ZON TV al Western Show. Manca veramente poco all'inizio di questo evento, due giorni ma è tutto pronto. Qui veramente sono pronti perché hanno finito tutto, noi ci troviamo sugli spalti di questo bellissimo posto, siamo sul campo principale dove si svolgeranno le gare maggiori, soprattutto lo special event del 29 giugno dove vi invitiamo a venire. Due campi fantastici dove correranno i cavalli, gare, dimostrazione quest, insomma non mancherà nulla qui all'Anguillara Western Show. Giganteschi gli impianti di illuminazione, abbiamo anche le scuderie con i cavalli, la zona dedicata all'Agility Dog e un grandissimo e immenso ristorante pronto ad essere riempito. Una manifestazione che ripetiamo si svolgerà il 28, 29 e 30 giugno, avrà come cuore pulsante il 29 con lo special event. È tutto pronto veramente qui al Western Show, ma andiamo a sentire gli organizzatori che a due giorni dall'evento fremono. Quest'anno non è stato organizzato un evento importante, Fiera Cavalli a Roma, diciamo che queste manifestazioni, questa manifestazione prova un po' a creare un'alternativa a questo grande evento. L'Anguillara Western Show sarà un'ottima alternativa di alto livello che proverà a sostituire l'evento che non è stato fatto per la monta Western. Parliamo di monta Western, team panning, ranch sorting, cattle panning, gincana Western anche verrà ospitata in questo evento. Questa è la zona dedicata ai cavalli. Ogni cavallo avrà il suo spazio, è fantastico che in pochi giorni siano riusciti a costruire tutto ciò. Abbiamo montato oltre 100 box, le mandrie sono in viaggio e da domani inizierete a vedere i cavalli che vengono montati in campo. Ci sono arrivate iscrizioni dal sud, dal nord. La prenotazione dei box è un po' sparsa per tutta Italia. Cosa succederà in questo Western Show d'Anguillara? Guarda, qui ci sarà lo special event più importante d'Italia. Ci abbiamo due campi, quindi le cose saranno in sequenza tantissime. Contornato da agility dog, da battesimo da sella, spettacoli indiani, poi non ci dimentichiamo i balli country. Questo è il campo principale, chi fa timpending è questo qui, è il campo importante. Per la gincana veloce, la gincana Western, il campo importante è quello là. L'entusiasmo è tanto, quello è importante. Devo dire che la stanchezza poi alla fine si fa sentire, ma noi la superiamo sicuramente perché l'entusiasmo c'è tutto. Diciamo che dalle 9 di venerdì fino ad arrivare a domenica sera, qui c'è veramente da vedere tante cose. 28, 29, 30, giugno, Anguillara, Sabazia, Western Show. Call the police, call the corner, call up your priest, California, working on peace.